Evasione fiscale internazionale, concorrenza sleale tra le imprese nel settore delle scarpe di lusso, in vendita al dettaglio anche fino a 1000 euro. Questo quanto scoperto dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Arezzo. I militari hanno infatti individuato un'azienda inglese che operava in Italia in totale evasione di imposta e in maniera occulta attraverso una stabile organizzazione, cioè un centro di attività fissata all'interno della sede di un'altra azienda italiana nota al fisco, dove è diretto e amministrato senza mai palesarsi al fisco italiano l'intero ciclo produttivo e di commercializzazione del prodotto. Ulteriori accertamenti hanno poi permesso di appurare che la società italiana, nelle produzioni operate per conto dell'azienda inglese, sia ravvalza delle prestazioni di servizio e di manodopera fornite da diverse ditte individuali che si sono succedute nel tempo e tutte gestite da cittadini cinesi con sede nella provincia di Firenze e in quella di Arezzo. Tali aziende non hanno mai presentato le dichiarazioni di erediti o comunque non hanno mai indicato parte dei consistenti ricavi, omettendo anche diversare le ritenute previdenziali ed assistenziali ai propri dipendenti. L'azienda italiana faceva dunque produrre scarpe di alta gamma le ditte cinesi e evasori fiscali, facendo risultare successivamente e fittiziamente la vendita all'estero, quando invece la merce rimaneva in Italia nella disponibilità della società inglese sconosciuta al fisco. In definitiva, lavoratori cinesi irregolari e ricavi spostati in Gran Bretagna con danni per il fisco italiano e per le imprese dello stesso settore che pagano le imposte in Italia. Considerata la solidità dei rilievi mossi, i rappresentanti delle società inglese ed italiana hanno richiesto all'Agenzia delle Entrate di accedere all'istituto deflattivo, versando alle casse dell'erario già 800.000 euro di imposte. Sono stati inoltre denunciati all'autorità giudiziaria tre soggetti di origine cinese per diversi reati tributari e previdenziali, avendo sottratto al fisco ricavi per circa 3 milioni di euro e vaso l'IVA per 500.000 euro ed omesso versamenti di ritenute previdenziali per circa 75.000 euro. È stato infine richiesto il sequestro per equivalente per tutelare il credito al fisco italiano.